Ottavo municipio, ci troviamo in via Squinsano, angolo via Maglie, dove qualche minuto fa c'è stato un brutto incidente, fortunatamente senza danni rilevanti per le persone. Il problema importantissimo di questo incrocio, guardate, è la segnaletica stradale per terra, quella orizzontale. Guardate, è sparita, non c'è più, come non c'è più in tutta Roma. Però in incroci così importanti, dove ci sono molte macchine che transitano ogni giorno, vedere questa carenza è un fatto veramente grave. Noi speriamo che il Presidente, seguendo le immagini, possa attivare immediatamente l'ufficio UITS della Polizia Municipale, mandare i vigili del settore per far ripristinare le strisce orizzontali. Siamo certi che la Polizia Municipale, come già in altre occasioni, nel rilevare l'incidente, segnala che per terra mancano le strisce. Quindi non fate vanificare il lavoro della Polizia Municipale intervenuta sul posto, lasciando su un tavolo, in un cassetto, quello che può essere importante per la sicurezza di tutti i cittadini che transitano su questo tratto di strada.